bello a tutti ragazzi per questo nuovo video io sono max qua siamo su clash of clans come vedete qua ragazzi siamo full di nero quindi andiamo a mettere re e regina in hop comunque come vedete re e regina in totale faranno 200.000 di resire nero ma invece noi abbiamo 190 ok quello che andiamo a fare oggi è svuotare la tesoreria non ora ovviamente che ci darà 12.000 di resire nero comunque quanto è bello vedere che siamo full di resire nero però ok comunque andiamo a fare iniziamo col nostro re e lo miglioriamo al livello 21 ecco re fatto poi prendiamo la regina chiariamo ci manca il nero andiamocelo a prendere ok beh ragazzi andiamo su regina e la miglioriamo a livello 22 ed ecco fatto questo era tutto per questo video volevo solo far vedere un piccolo dettaglio del mio villaggio comunque sul secondo villaggio sto lavorando abbastanza però neanche tanto sto maxando qualcosa gli sgarrier sto facendo al max però ci saranno nuovi video e nuovi contenuti sicuramente nelle prossime settimane su clash of clans aspettateci al prossimo video bella raga